Ieri la mamma di Paolo Ciavarro è stata ospita in collegamento a pomeriggio 5 nella seconda parte della trasmissione. Eleonora Giorgia ha commentato la neo-storia d'amore tra il figlio Paolo e Crizia in Corvaia. Lei mi piace molto, mi è stata vicina in questo periodo. Poi all'improvviso è accaduto qualcosa. Eleonora Giorgia ha lasciato la stanza in tutta fretta ed è andata a chiamare il figlio Paolo. Barbara d'Urso in credula ha tentato di rimettersi in contatto con lei. Eleonora che succede? Si è scappata dalla stanza. Ma l'attrice, non sentendo, ha continuato a parlare con il figlio. Mi è apparsa il TG, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare. Insomma, si sarebbe trattato solo di un imprevisto tecnico. Dopo un piccolo intervento, l'audio è stato ripristinato e la trasmissione è proseguita.